Quello che è successo martedì, quando un missile ha colpito l'ospedale Alali, nella città di Gaza, uccidendo centinaia di civili. Gli ultimi numeri parlano di 471 morti. Ha avuto un impatto enorme, ha avuto conseguenze sulla visita del presidente americano Biden ieri a Tel Aviv e sulle proteste dei popoli arabi contro Israele e i suoi sostenitori occidentali, sia in Medio Oriente che in Europa. Vediamo il giornale. Biden abbraccia Netanyahu, è come l'11 settembre, ma non rifate i nostri errori. Straggia a Gaza non è vostra. Tra poco ne parliamo qui in studio, ma intanto colleghiamoci. Andiamo a Gerusalemme, dove per noi c'è Anna Maria, buongiorno, esposito di Red News 24. La prima cosa che ti vorrei chiedere è come è andato l'incontro ieri con Netanyahu. Un incontro molto importante perché appunto il presidente statunitense arrivava, era una missione in un momento di tensione altissima e in uno stato in guerra. Ricordiamo che Israele è sotto coprifuoco, le città israeliane sono sotto coprifuoco, Gerusalemme deserta, Tel Aviv, anche tutti i centri che peraltro continuano ad essere bersaglio di Hamas con i razzi che continuano ad essere lanciati dalla striscia e che molto spesso colpiscono ancora soprattutto le zone del confine nella striscia di Isderot, che oramai è una enorme trincea, Ashkenon ancora a sud, Ashdod. Dicevamo di questa visita che aveva due obiettivi. Il primo la questione degli ostaggi, che è ora la priorità assoluta per Israele e non solo per tutte le nazionalità coinvolte nel sequestro che è seguito al massacro del 7 ottobre scorso, evitare poi la catastrofe umanitaria, dunque l'invasione di terra e assicurare una mediazione, un'apertura possibile con l'Egitto che aveva posto delle condizioni, soprattutto insieme alla Giordania, l'indisponibilità ad un flusso di profughi da parte della striscia di Gaza verso il Sinai così come verso la Giordania. Questa era la posizione dei due paesi, dunque una soluzione che fosse interna all'enclave palestinese e questo era il punto più difficile di mediazione perché il Sinai continua ad essere un territorio che alleva terroristi attraverso i quali continuano ad essere traffici ed anche una spina nel fianco dello stesso Egitto. E poi dicevamo la questione degli ostaggi che ora dovrà essere il vero terreno di mediazione. Su questo è cambiata anche la strategia militare di Israele, non si parla in queste ore più di un'invasione di terra ma dunque di un assalto massiccio da terra, dal cielo e dal mare, ma operazioni mirate che continuano in verità nei confronti proprio dei vertici di Hamas con raid mirati sulla striscia ma anche con operazioni militari e di polizia in Cisgiordania dove continuano ad esserci proteste e dunque questo doveva affrontare anche la visita del Presidente Biden, arrivava in un momento di esplosione massima della rabbia appunto da parte della popolazione arabo-palestinese. Grazie, grazie Anna Maria Esposito di Rai News 24 e la preoccupazione è che il conflitto si possa allargare. Allora in studio ci ha raggiunto Mariolina Sattanino, giornalista di lunghe esperienze, Rai. Cerchiamo veramente di ripercorrere. Buongiorno, benvenuta. Allora io partirei proprio intanto dal giornale perché non commettete gli stessi errori, i nostri errori dell'11 settembre. Allora vi chiederei quali sono stati gli errori? Quelli di non porsi il problema del dopo, come ha detto il generale Petreus, come finirà questa storia? Ed è quello che gli americani non si sono posti, la questione è che gli americani non si sono posti né quando sono andati in Iraq né quando sono andati in Afghanistan. E poi abbiamo visto come è finita. E non è detto che la ritirata dall'Afghanistan, così vergognosa possiamo dire, che ci ha tutti sconvolti e lasciando il territorio ai talebani due anni fa, non abbia influito anche su quello che sta succedendo adesso. perché la debolezza degli Stati Uniti in questo momento, la loro crisi, la loro, la spaccatura verticale della loro società, la loro crisi politica, culturale, sociale, è qualcosa che destabilizza enormemente gli equilibri occidentali e gli equilibri globali. Il fatto che abbiano portato proprio lì anche la loro portare più grande del mondo, due navi, quindi il sostegno per far vedere proprio l'attenzione che c'è. Altra cosa, ne stavamo parlando prima con l'inviata, il fatto che forse si dovrebbero aprire quindi i varchi comunitari venerdì, quindi dovrebbero essere domani. Secondo lei ce la faranno? Che saranno ovviamente i camion che porteranno i primi ovviamente viveri, situazioni anche per l'ospedale, il fatto che non hanno elettricità, è rimasto solamente neanche meno di un giorno. Sì, era uno degli obiettivi di Biden quello di cercare di riaprire il varco di Rafa, perché la missione di Biden, non ci dimentichiamo che Biden è in campagna elettorale, vuole ripresentarsi per il secondo mandato, quindi il sostegno pieno e incondizionato ad Israele, ma non gli bastava, doveva portare anche a casa qualche altro risultato. E l'apertura del varco di Rafa, vedremo in quale modo si articolerà. Sappiamo che da venerdì potranno entrare 20 camion con medicinali, acqua, cibo, speriamo che vadano veramente alla popolazione sofferente palestinese, non vengano sequestrati da Hamas. L'obiettivo di Biden era anche quello di far passare qualcuno, per esempio feriti, per esempio ostaggi binazionali che abbiano due nazionalità, ma a questo ancora non si sa. Profughi palestinesi? Non se ne parla perché il presidente egiziano Al-Sisi, i palestinesi, non li vuole, non li vuole anche perché ci saranno le elezioni in Egitto a dicembre, saranno elezioni molto difficili per lui. L'Egitto ha una pesantissima crisi economica, un'inflazione al 40%, una moneta che sta perdendo valore del 50%, quindi la preoccupazione di Al-Sisi è questa, ma del resto è stata sempre la preoccupazione degli altri paesi arabi che hanno considerato la causa palestinese una bandiera da sventolare, ma poi concretamente grande solidarietà, anzi delle volte li hanno anche combattuti i palestinesi. Altro nodo è dopo l'attacco l'altro ieri notte sull'ospedale si è alzato comunque l'attenzione anche qui in Europa, vediamo i vari aeroporti, anche Londra stessa, quindi nel passaggio adesso i controlli diventano molto più importanti, molto più dettagliati. C'è questo tipo di preoccupazione anche nelle piazze? Beh, sicuramente c'è questo tipo di preoccupazione. Ritorno terrorismo? Quello che è successo, intanto ci sono stati dei morti. In Francia è stato ucciso un insegnante, in Belgio sono stati uccisi due tifosi svedesi. In Italia due persone sono state arrestate a Milano? In Italia sono state arrestate due persone. L'Italia ha sospeso Schengen per quanto riguarda il passaggio con la Slovenia, perché c'è molta preoccupazione per la rotta dei Balcani, perché da lì possono entrare dei terroristi o presunti tali. Quindi l'allarme è molto alto, non c'è alcun motivo di essere nel panico, perché fra l'altro l'intelligence italiana ha dimostrato di essere estremamente efficace, però bisogna stare molto vigilanti e molto attenti. Grazie, grazie Marolina Sattanino. L'aspettiamo ancora qui in studio ad 1 mattina. Sicuramente, grazie. Grazie.